Il difensore civico è un organismo di garanzia con il compito di tutelare i diritti dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione. Da due anni questo ruolo è ricoperto dall'avvocatessa Daniela Longo. L'abbiamo incontrata per un bilancio sull'attività dell'anno appena trascorso. L'andamento dell'ufficio riflette l'andamento della società moderna, nel senso che abbiamo sentito anche noi la crisi. Lo spiego brevemente. Da un lato sono aumentati i casi relativi alle richieste o alle problematiche, alle disfunzioni sul sostegno all'occupazione. Quindi tutti quelli che hanno dovuto affrontare la burocrazia per avere un aiuto, un sussidio economico nelle varie forme previste. Dall'altra invece c'è stata una leggera flessione per quanto riguarda i casi relativi all'urbanistica. E questo è il frutto del fatto che il mondo dell'edilizia è fermo e quindi statisticamente anche i casi difficili si riducono drasticamente. L'anno scorso, quando ci siamo incontrate, aveva rilevato alcune criticità che risiedevano in particolare in un'eccessiva burocratizzazione e un'eccessiva discrezionalità da parte dell'ente pubblico nella gestione delle questioni. Cosa è stato fatto da questo punto di vista? A dire la verità penso che un anno sia un po' poco per le richieste che ho avanzato io perché sono abbastanza ambiziose. Posso dire però che per quanto riguarda una maggior chiarezza aspetto a breve delle novità dall'Itea che dovrebbe semplificare i rendiconti e renderli più facilmente leggibili da parte dei cittadini. E poi ho grandi aspettative per il nuovo regolamento attuativo della legge sull'urbanistica perché questa sarebbe la sede idonea per semplificare alcuni passaggi burocratici. Quindi do ancora un po' di tempo alle amministrazioni per questo punto di vista. Ecco dal punto di vista della semplificazione cosa si potrebbe concretamente fare? In quest'anno io ho fatto una riflessione che richiama un po' anche quello che ha detto la Corte dei Conti. Allora ormai sappiamo che non c'è solo la provincia o i comuni, ci sono tanti enti collegati in senso ampio, partecipati, strumentali, ne abbiamo sentite. Ecco, devo riconoscere che il tipo di accesso che il cittadino ha a queste strutture in termini di trasparenza non è uguale a quello della provincia, quindi io chiedo eventualmente di modificare questo tipo di accesso in modo tale che si abbia uguale dignità quando si va davanti alla provincia piuttosto che a uno di questi enti. In Trentino il difensore civico svolge anche l'importante funzione di garanzia e tutela dei diritti dei minori, un settore nel quale Longo si è impegnata molto cercando e trovando anche sinergie con la provincia di Trento. Devo riconoscere alla provincia che mi ha dato delle grandi soddisfazioni. Per quanto riguarda il problema dell'uso consapevole di internet, riconosco che proprio da poche settimane è stata aperta una cabina di regia che coinvolge tutti gli enti istituzionali che si occupano di questa problematica e che ha il compito di mettere in piedi più di iniziative che possa aiutare a migliorare la consapevolezza per i genitori e per i ragazzi. E poi un'altra invece sempre iniziativa che è stata ascoltata è quella di agevolare il lavoro dei famosi tutori di cui Albo è partito a marzo e probabilmente a breve faremo un vademecun con il patrocinio della provincia e con l'aiuto dell'università e tutto questo grazie alla disponibilità che hanno dimostrato anche in termini economici. Il difensore civico può essere consultato in forma gratuita al suo appuntamento presso i suoi 15 uffici periferici oppure nella sede di via Gazzoletti 2 a Trento. Per maggiori informazioni chiamare il numero verde o consultare la sezione dedicata sul sito del Consiglio Provinciale Grazie a tutti.